Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Domani entrerà in vigore l'obbligo del Green Pass per accedere a diversi esercizi commerciali e agli eventi. Tendenzialmente gli esercenti sono favorevoli ma le perplessità non sono poche. Noi questa mattina abbiamo fatto una ricognizione, un giro con la nostra troupe coordinata da Giuseppe Dintino. Abbiamo ascoltato ristoratori, esercenti di palestra, abbiamo ascoltato anche rappresentanti delle associazioni. Vediamo il servizio curato da Giuseppe Dintino. Il servizio è pronto ed è in arrivo ancora qualche istante. Ok, attendiamo ancora dalla regia se ci sono dei problemi. Ok, possiamo andare allora al prossimo servizio. Parla di operazione... no, c'è il servizio, vediamolo. Ultimo giorno senza Green Pass. Da domani, venerdì 6 agosto, il passaporto anti-covid sarà obbligatorio come disposto dall'ultimo decreto legge. Il Green Pass lo ottiene chi ha ricevuto il vaccino, basta anche solo la prima dose, chi ha già contratto il virus ed è guarito negli ultimi sei mesi, o chi si è sottoposto a tampone con esito negativo nelle ultime 48 ore. Senza una di queste tre certificazioni non si potrà più accedere a bar, ristoranti o qualsiasi altro esercizio dove si consumi al chiuso, seduti al tavolo. Servirà anche per entrare nei musei, nei cinema o alle mostre, così come per palestre, piscine e centri benessere. Ed anche all'aperto, il Green Pass sarà necessario per assistere a concerti, eventi, sagre, fiere e congressi. Non servirà invece negli alberghi e nei centri estivi e nemmeno in chiesa. Siamo favorevoli al Green Pass, dice Confesercenti, ma rimangono delle perplessità. Non si comprende ad esempio se nella ristorazione all'interno degli hotel, considerando che siamo in un periodo agosto dove ormai le prenotazioni sono state già fatte e gli hotel sono già pieni, se in realtà all'interno della ristorazione, nelle strutture ricettive, si debba avere o meno il Green Pass. Poi c'è tutta una parte relativa ai piccoli intrattenimenti, alle sagre, alle fiere, attività che solitamente sono all'aria aperta e aperte al pubblico, dove non si comprende come si possa in qualche modo controllare l'entrata e l'uscita. Gli stessi controlli, noi abbiamo sollevato forti dubbi, i titolari non sono pubblici ufficiali, per cui non hanno la potestà di chiedere la carta di identità, comunque il Green Pass stesso, per cui abbiamo chiesto che in qualche modo sì, ci sia una persuasione, si chieda l'autocertificazione da parte del cliente, ma non si può responsabilizzare fino ad arrivare a una multa al titolare. Il Green Pass è previsto solo per chi ha più di 12 anni, chi ne sarà sprovvisto nei luoghi dove è obbligatorio rischia una multa fino a 400 euro, mentre gli esercenti che non vigileranno rischiano la chiusura dell'attività da 1 a 10 giorni. Noi come ristoratori sicuramente qualche cosina andremo a perdere, al momento in cui si entra al coperto, al chiuso, innanzitutto non siamo degli sceriffi e quindi non potremmo, proprio per legge non possiamo chiedere il documento, quindi non so come attuare questa pratica. La cosa migliore sarebbe, spero che il governo faccia, un'autocertificazione. Per alcuni settori il Green Pass era già obbligatorio dallo scorso giugno, ad esempio per la filiera dei matrimoni e degli eventi. È essenziale che tutti quanti partecipino a ciò, ma soprattutto per una sicurezza dei nostri ospiti che possono festeggiare e svolgere l'evento in totale tranquillità. Ovviamente la responsabilità deve essere di ognuno, non solo della struttura ma di ogni partecipante. Insomma i dubbi sul Green Pass non sono pochi, riguardano i settori dove sarà obbligatorio, chi dovrà controllare e sanzionare, chi sarà responsabile di eventuali violazioni. Per molti esercenti però rappresenta anche una speranza, quella di scongiurare nuove chiusure ad autunno. È un'occasione per lavorare in sicurezza, anche perché il nostro settore è stato abbastanza penalizzato. Sette mesi di chiusura con il Green Pass, la speranza è quella, quella di non chiudere. Parla di Operazione Verità il PD sull'ex sito industriale Montecatini di Piano d'Orta di Bolognano dopo le dichiarazioni di Fratelli d'Italia. Paolo Renzetti. L'avete chiamata Operazione Verità, fare chiarezza sull'ex sito industriale Montecatini di Piano d'Orta di Bolognano anche dopo la conferenza stampa nei giorni scorsi di Fratelli d'Italia. Perché questa Operazione Verità? Intanto perché il consigliere testa ha bisogno di fresco, di ombra per un po' di tempo per recuperare le sue forze, perché ha dichiarato cose inesistenti e contraddittorie. È fuori dalla grazia di Dio, perché le ordinanze su Edison emesse per il sito di Bussi e Piano d'Orta sono ordinanze emesse dalla Presidenza di Marco negli anni che vanno del 2014 e del 2018. Lui ha fatto tutt'altro, lui il 7 ottobre 2014 comunicava al Ministero dell'Ambiente che non era stato possibile trovare il soggetto inquinatore e che non avrebbe partecipato alla conferenza di servizi. Quindi dire oggi che è un lavoro fatto dall'attuale centrodestra o dall'attuale gruppo di Fratelli d'Italia in regione, in provincia e nel comune di Bolognano è una contraddizione parese. Ma io questo lo addebito a chi ha bisogno di evidenza per essere presente sul territorio. Noi parliamo con gli atti amministrativi, ci sono le ordinanze, il Consiglio di Stato ha già decretato la responsabilità in capo a Edison definitivamente per quanto riguarda Bussi, lo sta per fare definitivamente anche per Piano d'Orta e la sentenza ci sarà a dicembre. C'è questa ordinanza emessa dal sindaco protempore di Bolognano che dice che la responsabilità della demolizione deve essere in capo alla proprietaria attuale, la Molligian, ma già ho letto cose che ha detto la Molligian al riguardo. Credo che ci sia un rallentamento eccessivo delle procedure dettate proprio dalle ordinanze emesse dal sindaco di Bolognano. Sono due anni che si è insediato, sono due anni che questo disinquinamento non avviene e probabilmente qualche problema in più ci sarà per i cittadini che vivono a Piano d'Orta. Quindi ribaltare il tavolo e dire che le responsabilità sono altrui, insomma io li consiglio vivamente entrambi di studiare, leggere le carte e poi fare le conferenze stampa. Io auspico invece che la Regione prenda in mano la situazione di Piano d'Orta seriamente e come ho sentito dire anche dal consigliere Brasioli si possa fare un tavolo istituzionale che vada a ragionare con la Molligian, vada a revocare questi atti amministrativi che sono stati già sospesi dal Tar, alcuni già annullati, addirittura ordinanze messe dal sindaco revocate da lui stesso e si comprenda un percorso unitario che acceleri tutte le procedure messe in campo. Io credo che quando si parla di ambiente e di territorio bisogna stare molto attenti e bisogna aver fatto bene gli atti amministrativi perché dare solo le responsabilità dichiarate in conferenza stampa senza supporti amministrativi diventa veramente qualcosa di ridicolo e di cui si può fare a meno perché si ingenera confusione nei cittadini facendo pensare cose non esistenti. L'amministrazione provinciale, regionale e comunale di centro-sinistra, contrariamente a quello che ha detto il consigliere Testa, sono quelle che hanno lavorato per portare a fare le ordinanze di cui oggi tutti parlano. Quindi io sono pienamente soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto noi. Sono preoccupato per il lavoro non fatto dall'attuale gruppo di Fratelli d'Italia, capeggiato da Guarigno Testa. Diversi incendi sono divampati la notte scorsa in provincia di Chieti, il più importante accupello nel Vastese ha interessato una superficie di circa 60 ettari, fra balloni di Sottobosco e Sterpagli in Contrada Ributtini. Le fiamme sono divampate intorno alle 21.15 di ieri sera e sono state definitivamente domate intorno alle 6.30 di questa mattina. Per spegnere l'incendio sono state concentrate in quell'area 10 squadre dei vigili del fuoco con uomini e mezzi provenienti da quasi tutte le caserme della provincia di Chieti, soprattutto a protezione delle abitazioni e dei ricoveri degli animali. Nessuno è stato evacuato. Non ci sono ipotesi sull'origine del rogo. Altri incendi di Sterpagli e di piccola entità si sono verificati nella zona industriale di Farafigliorumpetri, a Orsogna e a Datessa. Questa mattina inoltre i vigili del fuoco sono tornati in località Vallevò di Rocca San Giovanni, dove domenica scorsa è andata distrutta la pineta sulla costa dei Trabocchi per la bonifica di alcune fumaiole. Cambiamo pagina. Nonostante lo stop imposto dal Presidente del Senato Casellati, prosegue la battaglia per la proroga della chiusura dei tribunali minori. In serata è previsto un incontro tra i sindaci di comuni abruzzesi e i parlamentari per fare il punto sulle prossime iniziative. Vediamo. La proroga dei tribunali minori abruzzesi non è ancora finita. Dopo la doccia gelata dello stop alla proroga da parte della Presidente del Senato Casellati, i sindaci e gli avvocati tornano a premere sull'acceleratore e fissano un nuovo vertice con i parlamentari. In programma alle 19, il gruppo di lavoro in cui è stato nominato coordinatore il sindaco di Pangrazio vuole capitalizzare il sostegno di tutti i gruppi politici di Palazzo Madama che aveva portato alla richiesta della proroga della chiusura al 2024. Ad un passo dal traguardo, l'obiettivo ancora alla portata, sottolineano i sindaci di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, i presidenti delle province di Chieti e L'Aquila e i presidenti degli ordini degli avvocati. Il prossimo passo sarà quello di inserire la proroga in uno dei prossimi decreti per poi giocarsi la partita decisiva con l'attesa riforma della geografia giudiziaria. Eramo convinti che il provvedimento, il DL, contenesse definitivamente anche l'emendamento che era stato voluto all'unanimità da tutti i membri della commissione giustizia. Il presidente Casellati ha deciso, a mio avviso arbitrariamente, di non introdurre l'emendamento sul provvedimento. Peraltro, come dicevo, passato all'unanimità la cosa ci ha lasciato abbastanza esterefatti anche perché la volontà espressa attraverso i rappresentanti, la volontà popolare espressa attraverso i rappresentanti è sovrana anche rispetto a eventuali forzature che possono essere arrivate dal governo. La proroga è sì un palliativo, però in questo momento diventa determinante per poter organizzare i territori, a mio modesto avviso, con l'unione di tutti i tribunali che sono stati tagliati fuori da quella riforma scriteriata per riformare la geografia giudiziaria e riportare i tribunali vicini ai cittadini per un discorso di prossimità della giustizia. A Teramo riapre al traffico via Enrico Fermi in località San Nicolò Tordino, una strada che da 12 anni era interessata da notevoli problemi di dissesto idrogeologico. Sulla via è stato anche realizzato un nuovo manto di asfalto. Vediamo. Nel 2009 c'era stato questo problema del dissesto idrogeologico, nel 2010 fu emessa un'ordinanza di chiusura di via Fermi in conseguenza del dissesto idrogeologico. Oggi abbiamo concluso i lavori non solo di messa in sicurezza del dissesto, ma abbiamo riaperto via Fermi e la viabilità cittadina in modo tale da poter consentire non solo ai residenti di questa zona, ma a tutti i concittadini terramani di poter fruire di questo spazio. L'intervento del dissesto sono stati fatti realizzati dai gabbioni per poter contenere l'erosione che si era verificata, è stato ripristinato il piede di scarpa del terreno e tecnicamente ci ha consentito di poter poi ripristinare la viabilità sovrastante. Devo dire che adesso ci sarà anche un momento di assestamento, ci vorrà qualche pioggia per poter verificare l'assestamento di questo spazio, ma nello stesso tempo abbiamo fatto l'asfalto per restituire a San Nicolò uno spazio fruibile che possa essere veramente utilizzato in tranquillità. Un segno del fatto che si tratta di un problema sentito, dopo 11 anni della chiusura della strada, ma soprattutto di una frana che avanzava in modo anche pericoloso, l'obiettivo che ci siamo posti l'abbiamo raggiunto in pochissimo tempo, perché abbiamo lavorato come un'amministrazione deve fare, mettendo insieme anche tutti gli altri enti competenti, c'è stato il contributo, una parte del contributo della Regione Abruzzo che comunque ringraziamo, ma c'è stata soprattutto la volontà dell'amministrazione di risolvere un problema legato alla viabilità in una parte importante della frazione e quindi alla qualità della vita della frazione stessa e quindi uno snodo importante, ma soprattutto la messa in sicurezza della frana, in un'area che tra l'altro a cui a breve sarà interessata dei lavori di ricostruzione di questo palazzo che vediamo alle spalle, un'opera importante di diversi milioni di euro e quindi si riqualifica complessivamente attraverso anche e soprattutto la messa in sicurezza dell'area in una zona che poi è quella di ingresso della frazione. Torna anche quest'anno lo Spoltore Ensemble, giunto alla sua 39esima edizione, sei serate di grandi eventi nelle piazze del Centro Storico, vediamo. Sei serate all'insegna della musica, dell'arte e della cultura. Lo Spoltore Ensemble torna anche quest'anno con la sua 39esima edizione che vedrà la presenza di grandi personaggi come per esempio Laura Morante, Giuliana Desio e Paolo Fresu. Per il sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito si tratta del decimo Spoltore Ensemble da primo cittadino. L'evento si svolgerà seguendo le precauzioni anti-Covid. Una delle manifestazioni culturali più longevi di tutta la regione ha un richiamo nazionale e quindi merita tutta l'attenzione possibile perché la sua storia dice tanto. Noi non ci siamo mai interrotti nemmeno l'anno scorso e nemmeno quest'anno, però è chiaro che sono edizioni un po' costrette, costrette perché ad esempio gli spettacoli avranno 200 posti a sedere rispetto alla grande piazza che ospita Piazza San Giovanni, però non più di 200 persone, quindi significa che però abbiamo allungato le serate perché abbiamo detto che sono pochi posti e quest'anno saranno 6 giorni lo Spoltore Ensemble dal 17 al 22 di agosto. Un programma molto intenso con 8 spettacoli, con artisti molto popolari ma di elevata qualità culturale. Iniziamo il 17 con Laura Morante, un spettacolo molto bello, teatro e musica è un po' la chiave classica dello Spoltore Ensemble ma in particolare di questa edizione. Brividi Morali è lo spettacolo che farà Laura Morante che è uno spettacolo in esclusiva per noi. Ci saranno tante presenti, Giuliana Desio ad esempio con Favolosa, ci sarà Stefano Massini, vero e proprio guru dell'informazione televisiva, culturale. Chiuderà Paolo Fresu in una giornata davvero densa perché sarà aperta da un concerto dei solisti aquilani con Ugo Pagliaia e Cesare Chiacchiaretti in un omaggio ad Astor Piazzolla e ci sarà poi il concerto conclusivo di Paolo Fresu che è forse il testimone al più importante a livello internazionale per il jazz e per la musica a livello europeo e mondiale. Quindi un programma davvero molto denso. è importante dare un messaggio sul giornalismo di qualità, un giornalismo con una grande carica etica, a sottolineare il ruolo che in una società che si definisce civile il mondo appunto della comunicazione ha. E poi questo messaggio positivo di un uomo che parte da un paesino dell'entroterra abruzzese, da una famiglia molto umile, riesce a farsi strada con la sua forza, con la sua cultura e riesce soprattutto ad essere profondamente moderno e innovativo. Un sacerdote che distingue tra giornale clericale e giornale cattolico, che apre le braccia ai dubbi che attanagliano le famiglie della sua epoca, è l'epoca in cui si discute di divorzio, di aborto e che accoglie pienamente gli indirizzi del concilio in un momento in cui la polemica serpeggia anche nel mondo cattolico, quindi un messaggio di grande e straordinaria modernità. I premi giornalisti nascono quando i personaggi che si vogliono celebrare poi hanno dietro le spalle, hanno lasciato una storia nella storia del giornalismo e Don Giuseppe Zilli sicuramente lo è stato, è stato un grande direttore, pensi che quando ha diretto Famiglia Cristiana è riuscito addirittura a raggiungere una tiratura di 2 milioni di copie, cose veramente impensabili oggi con i periodici. E poi non si è limitato soltanto a questo, ha fondato anche quella rivista molto importante di teologia, ma anche di critica sociale che è stato Jesus, che ha ospitato i più grandi intellettuali italiani, per cui merita assolutamente di essere celebrato, mi congratulo con l'amministrazione di Fano Adriano che ha avuto questa idea. Noi lo ricordiamo innanzitutto come concittadino, ma anche come giornalista e quindi dal 7 agosto partirà questa serata dove ci sarà l'attrice Vanessa Gravina che ricorderà Don Giuseppe e poi sarà il lancio per il premio giornalistico nazionale che lanceremo nel 2022. Presentato questa mattina a Pescara lo spettacolo teatrale Dove nacque Italia, un viaggio nella storia tra pupi, canto e musica in programma sabato 7 agosto alle ore 21.30 all'Aurum. Il 7 agosto all'Aurum di Pescara ci sarà l'evento Dove nacque Italia. Che cos'è questo evento e com'è nata l'idea di questa iniziativa? Dove nacque Italia ha una storia da raccontare, è un'iniziativa nata per il debutto dell'omonimo spettacolo Dove nacque Italia, un viaggio nella storia tra pupi, canto e musica. Abbiamo deciso di mettere su una rete costituita dalle realtà che hanno prodotto lo spettacolo, quindi Cuntaterra che è un'associazione di Chieti, una compagnia di teatro d'alto e popolare di Chieti, la compagnia dei pupi italici, il TSA, il Teatro Stabile d'Abruzzo, coproduttore dello spettacolo, Comitato Provinciale Arci di Pescara e l'Associazione Vitelli di Pescara. Tutte queste realtà stanno collaborando insieme per organizzare questa giornata che poi culminerà con il debutto dello spettacolo, un debutto nazionale. Abbiamo puntato nell'organizzazione di questa giornata alla multidisciplinarietà degli interventi, quindi si tratta di una ricca giornata che inizierà alle 10 del mattino con l'allestimento di una mostra, una mostra divulgativa sull'antica storia dei popoli italici che è una storia fondamentale, importante e valorizzante del nostro territorio. Alla mostra ci saranno quindi dei pannelli che spiegheranno la storia degli italici ma ci saranno anche degli artigiani che attraverso l'artigianato, il tessuto, la lavorazione della pietra, la lavorazione dei gioielli racconteranno una parte di questa importante storia. A seguire ci saranno dei laboratori per bambini perché riteniamo fondamentale che i bimbi possano partecipare alla vita culturale del territorio organizzati grazie al progetto CET, Cultura, Empowerment, Educazione e Territorio che è un progetto promosso dall'Arci e che Arci Pescara coordina sul territorio attraverso cui diamo la possibilità ai bambini di partecipare a delle attività educative di contrasto alla povertà educativa in maniera del tutto gratuita. Dopo cento anni ed un restauro accuratissimo è tornato a suonare uno splendido pianoforte del 1873 protagonista della serata concerto organizzata dalla Galleria d'Arte Mariz in collaborazione con l'Associazione Culturale Pomodoro a Francavilla al Mare. Alla platea sono state proposte composizioni dei grandi maestri della musica classica nella cornice offerta da opere pittoriche degli artisti del Novecento. Alfredo Primante Le note di uno stupendo pianoforte Veseli Fabrich Wien del 1873 tornato a suonare a seguito di un minuzioso restauro hanno impreziosito la serata di musiche d'arte organizzata dalla Galleria Mariz in collaborazione con l'Associazione Culturale Pomodoro nella cornice di Piazza Sant'Alfonso a Francavilla al Mare. Il soprano Sara Borrelli e il maestro Francesco Alessandrini all'organo e al pianoforte hanno proposto alla folta platea alcuni capolavori dei grandi compositori classici da Leoncavallo a Wagner, Damascagna, Puccini e Vertu. Una serata d'estate nella quale come detto si sono unite musica ed arte pittorica grazie all'esposizione delle opere di alcuni celebri maestri del Novecento. Siamo allo sport per il dopo Fiorillo il Pescara pensa a Mirko Pigliaceli e nel caso sarebbe l'ennesimo ritorno per il portiere romano. Operazione non semplice visto che il giocatore milita nella serie romena. Intanto limati gli ultimi dettagli nell'accordo e in arrivo dalla Ternana anche all'esterno Paolo Frascatore in servizio. Difensori e portiere sono i principali obiettivi di questa intensa fase di calcio mercato per il Pescara. L'ampia operazione con la Ternana sta per vedere sistemata l'ultima tessera. Paolo Frascatore arriva a titolo definitivo. Come detto negli ultimi due giorni qualche problemino, qualche dettaglio da limare nell'accordo tra il Pescara e il giocatore. Ora che la quadra si è trovata Frascatore è in arrivo in città ed è pronto a tornare a indossare il biancazzurro. Si auspiega con un esito migliore rispetto al 2013 quando, ben più giovane, trovò poco spazio e andò via nel gennaio 2014. Destinazione Regina. Difensore Mancino nasce come fluidificante e Auteri potrà impiegarlo come tutta fascia di sinistra ma adattabile anche come Braccetto Mancino nelle trio di centrali. Difesa che sarà ulteriormente puntellata anche con l'innesto dell'ex L'Aquila Gianmarco Ingrosso in uscita dal Pisa lo scorso anno autore di una buona stagione in B al Cosenza e ben noto a Gaetano Auteri che lo ha allenato a Matera. Distretta attualità poi la caccia al sostituto di Vincenzo Fiorillo. Contatti sono stati allacciati con una vecchia conoscenza. Mirko Pigliacelli che in passato più volte ha indossato la casacca bianca-azzurra. Operazione non semplice perché il giocatore milita nell'Università Teacraiova nella Serie A rumena e ha un contratto in scadenza il prossimo giugno. Tuttavia il Pescara ci prova, sfruttando anche i buoni rapporti con la gente di Pigliacelli e la trattativa potrebbe entrare presto nel vivo sia per la definizione di un indennizzo al club romeno sia per l'ingaggio dell'estremo difensore romano cresciuto nelle giovanili della Roma. A Pescara è arrivato in prestito dal Parma nella prima parte della stagione 13-14 per poi andare via a gennaio. Acquistato a titolo definitivo nel 2015 fu subito girato in prestito alla Provercelli e successivamente al Trapani. Tornato alla base nell'estate 2017 ebbe subito la fiducia di Zeman che lo preferì a Fiorillo, poi la rottura col Boemo consumata con la tribuna di Empoli e la successiva cessione. Pescara che continua a monitorare altri profili quali Vindi del Pordenone, Gagno del Modena e Pissari dell'Alessandria. Intanto si conosce la data dei calendari. Saranno sorteggiati lunedì 9 agosto alle ore 19 preceduti dalla definizione dei gironi con Pescara e Teramo che saranno inserite nel girone B. Intanto la Federcalcio ha riformulato la graduatoria dei ripescaggi. Escluso il Fano andranno in C, Latina, Lucchese, Fidelisandria, Pistoiese e Siena. Una volta esaurite le pronunce del Tar sui ricorsi delle escluse, il Presidente Federale Gravina ratificherà riammissioni e ripescaggi. A causa di casi Covid tra i tesserati del Penne, l'amichevole tra la squadra Vestina e il Pescara in programma per domani pomeriggio alle ore 18 è stata annullata e posticipata a data da destinarsi. In casa Teramo fase di stallo per le trattative di Santoro al Brescia e Cianci al Padova anche se nelle ultime ore si registra un forte inserimento del Catanzaro per l'attaccante. Nel pomeriggio invece è fissato un incontro tra il Presidente Franco Iachini, il DS Carlo Musa e il DS della Ternana, Luca Leone per Salim Diachite. Per la gestione del difensore il Teramo chiede soldi e una contropartita tecnica, il 29enne portiere Andrea Tozzo nel vertice si cercherà la quadra per lo sviluppo dell'operazione. Nella prossima intervista invece conosciamo meglio un volto nuovo bianco-rosso, il giovane centrocampista Marco Cucurullo. Sì, da mesi che comunque il Procuratore mi aveva comunicato che comunque c'era interesse da parte del Teramo prendermi, acquistarmi e quindi poi in questi giorni, ci sono stati un paio di giorni comunque per la trattativa e appena ho avuto l'opportunità di venire a Teramo per allenarmi con la squadra e stare con il mister e subito sono venuto. Ho fatto 4 anni di settore giovanile a Benevento che poi successivamente sono andato in prestito a Taranto e poi dopo ho fatto un anno di C a Cava che poi sono qui oggi. Sono un giocatore che comunque mi piace lottare, correre e giocare la palla e spero di dare tanto per questa maglia. A Taranto ho incontrato il mister Panarelli che comunque ho fatto giocare a 2, poi successivamente a Cava dei Tirreni abbiamo giocato a 3, a 2, non ci sono problemi comunque, sia a 2 che a 3 mi trovo bene. Sì, è stata una bella emozione comunque affrontare una squadra come il Teramo che comunque anche l'anno scorso ha fatto playoff e tutto, quindi sono contento di far parte di questa società e di questa piazza importante come Teramo e spero di dare tanto. Sicuramente migliorare a livello personale e puntuare il più in alto possibile con la squadra. Grazie. Grazie.